VANGELO DI GIOVANNI CAPITOLO SEDICESIMO V'ho detto queste cose, affinché quando si è giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo' a colui che mi ha mandato, e nien di voi mi domanda dove vai. Invece perché v'ho detto queste cose, la tristezza va riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, e gli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo' non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo' io ve lo manderò. E quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché me ne vo' al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il Principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo' al Padre. Allora alcuni dei Suoi discepoli dissero tra loro, Che cos'è questo che ci dice, Fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete, e perché me ne vo' al Padre? Dicevano dunque, Che cos'è questo fra poco che Egli dice, Noi non sappiamo quello che Egli voglia dire. Gesù conobbe che lo volevano interrogare, e disse loro, Vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire, Fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete? In verità, in verità vi dico che voi piangerete, e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità, in verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che son preceduto da Dio. Son preceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero, Ecco, adesso tu parli apertamente, e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa, e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei preceduto da Dio. Gesù rispose loro, Adesso credete? Ecco, l'ora viene. Anzi è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è meco. Vodete queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Grazie. Grazie a tutti.